Grazie a tutti. Abbiamo discusso di più forme di distruzione del patrimonio pubblico, sia da un punto di vista finanziario e economico, sia da un punto di vista fisico. Se parliamo di grandi opere parliamo di impatti territoriali che infliggono dolorose perdite alla capacità anche di autosostenersi di una comunità e di un futuro esso stesso. Allora a questo punto coltivare nuovi medi ecologici, a voi che suggestione viene partendo dalle vostre esperienze? E poi un commento su tutto quanto è stato detto oggi a questo punto dal vostro punto di vista di persone che vivono e come dire difendono la terra. Siamo di recente visti un mese fa circa a Costa Vescovato nell'ambito dell'iniziativa La Terra Rimedia dove si parlava appunto di media collegate al problema dell'agricoltura contadina in particolare della terra, della cessa alla terra. Per iniziare il discorso cosa possiamo dire? In quella giornata lì si partiva anche un po' dal presupposto che in questo momento l'agricoltura contadina, la terra gode di una certa simpatia, una simpatia diciamo anche mediatica nel senso che tanti media si occupano di questa cosa, ma veniva anche fuori come venisse veicolata un'immagine dell'agricoltura contadina. Noi parliamo in particolare delle terre alte, cosiddette terre alte, quindi l'alta collina, la collina e la montagna, la montagna penninica. La rappresentazione che viene veicolata di questo ritorno, di questo neururalismo è una rappresentazione che diciamo spesso non piace a tutte le persone che operano nel settore, nel senso che è anche una rappresentazione abbastanza semplicistica, idilliaca di questo ritorno alla terra, che non fa i conti con tutte le problematicità che ci sono dietro. Ma in questo senso, ne parlavamo con Claudio nei giorni scorsi, quando ci siamo sentiti, bisogna dire anche che voi con le altre tematiche, in generale il titolo di questo convegno, come dire, partite da un'analisi molto strutturale dei media, della loro autonomia, scarsa autonomia, e della loro eterodirezione, quindi della loro dipendenza da vari centri di potere. Quando si parla di media indipendente, però, bisogna tenere presente, secondo me, lo vediamo, l'ho visto, l'opera nell'agricoltura contadina, è che per essere alternativi, come dire, bisogna anche veicolare dei contenuti e delle forme nuove, perché non basta, come dire, che una produzione sia al di fuori dei grandi canali dominanti del potere, perché sia indipendente. C'è anche una forma di subalternità culturale, spesso, che non è veicolata, come dire, dai fucili o da una coercizione diretta, ma è una cosa più fatta di interiorizzazione culturale. In questo vedo che nell'agricoltura contadina manca, come dire, una certa creatività anche nel comunicare le cose, oltre che un'informazione indipendente, mancano nuovi modi e nuovi contenuti per comunicare le cose. In questo senso, quindi, lo stimolo più forte lo vedrei, lo vedrei in questo senso, anche perché se no, anche rispetto al discorso che faceva il ragazzo prima in questa battaglia su Gela, ma in generale su tutte queste battaglie, no, sembra quasi che l'informazione indipendente possa contrastare l'informazione dominante contrapponendo alla verità, distorta loro, una verità, come dire, dritta nostra, no. A me sembra una battaglia assolutamente impari e perdente. Noi lavoriamo anche nel piccolo, siamo in una zona chiamata Terre del Giarolo, comunità. Credo che il problema dell'informazione non sia solo un problema, come dire, di dire la verità e che ci siano tanti centri di informazione più indipendenti, eccetera, ma sia anche un problema relativo, come dire, all'antropologia attuale, alla dose di informazioni che ricevono le persone e alla qualità dell'informazione. Non penso che sia nemmeno facile orientarsi all'interno del mondo dell'informazione in generale, della comunicazione e della conoscenza oggi. Non credo che si possa impostare questa battaglia come una battaglia, come dire, della verità contro la non verità. O comunque il problema non è solo di autonomia di mezzi di informazione, ma più vasto, direi. Però scusa se ti faccio una domanda. In questo tipo di narrazione, se vogliamo utilizzare una parola giornalistica, cos'è che reputi, cos'è che dà fastidio? La forma bucolica, la forma romantica, la forma mitizzata? Se noi guardiamo i dati del censimento, i dati reali della campagna, come dire, possiamo tranquillamente ancora usare i termini che usavano Otto Revelli negli anni 70 quando ha scritto l'anello forte o il mondo dei vinti. Siamo di fronte ad un genocidio dell'agricoltura contadina. Il fatto che all'interno di questo genocidio ci sia una piccolissima percentuale di ritorno alla campagna, che attorno a questa piccolissima percentuale si sia costruita una sorta di vulgata che parla di nuovi contadini, di neururalismo, quando poi purtroppo c'è veramente molto poco, oltre alla grande comunicazione, crea comunque uno scarto nella visione tra la rappresentazione e la realtà veramente ampio e una distorsione anche per chi, come dire, dall'esterno, dalla città, guarda al nostro mondo, al mondo contadino, dove sembra, come dire, abbastanza facile, agevole andare in campagna, in queste zone, tra virgolette, considerate marginali, comprare una casetta, un pezzo di terra e mettersi a fare in qualche modo un imprenditore agricolo. Purtroppo non è così. Cioè, ci vogliono tanti soldi da investire e i risultati economici, come dire, sono abbastanza, abbastanza, come dire, magri. In questo senso è veramente anche una scelta di vita, quella di andare a lavorare in campagna, perché comunque chi viene non lo fa certo in attesa, come dire, di grandi profitti. Aggiungo quello che diceva Jeff, che c'è questa, certo, contano i media, cioè noi abbiamo promosso, io e lui in particolare, io ero in Comunità Montana, delle interviste, delle interviste che abbiamo fatto a 60 nuovi insediati negli ultimi dieci anni. E questo, lo scopo di questa intervista era anche di, quello di far conoscere ai media, ma anche i politici locali, anche, questo comunque, questa nicchia che diceva lui, questo piccolo, ma molto importante, di comunque ragazzi giovani, meno giovani, che si avvicinavano di nuovo alla terra. E l'importanza che aveva, che avevano questo numero, anche se esiguo, rispetto a tutta una serie di cose. Qua stiamo parlando, appunto, delle terre alte, dell'alto pennino, stiamo parlando di paesi completamente disabitati, alcuni abitati da 5, 6, 7 persone, non di più. Per cui il fatto che, in qualche modo, in quel paese, si instauri una coppia, con magari anche, poi in futuro, anche con dei bambini, ma comunque, al di là dell'aspetto sociale, anche l'aspetto, ad esempio, agricolo, comunque di salvare il salvabile, perché comunque il genocidio è stato fatto, certo, e forse è quasi finito, perché i vecchi più o meno se ne sono andati tutti, ma comunque qualcosa c'è ancora. Il fatto di poter salvare anche la stessa memoria di quei luoghi, mi sembra molto importante. Il fatto che tante di queste realtà, comunque, si affidano a... guardano poco, ad esempio, a quello che sono finanziamenti pubblici, che arrivano spesso coordinati o meno, in un modo, dalle regioni, dalla comunità europea, ma in un modo che è un po' come avvicinarsi alle banche, che se non hai non ti danno, insomma, anche lì più o meno la stessa cosa. Se uno non ha, non riceve niente, insomma. Per cui non sempre sono di aiuto. E a volte, quando lo sono, ti buttano dentro delle gabbie che comunque tu sei obbligato ad andarci e devi starci dentro, facendoti fare delle scelte che non sono le tue libere scelte, insomma. Proprio perché quella cosa è aiutata e finanziata, quell'altra no, a seconda di parametri che vengono calati dall'alto. E questo fa sì che ci siano forte, forte difficoltà. Nello stesso tempo c'è questa idea bella di ritorno, che noi abbiamo messo in atto, io faccio parte di una cooperativa agricola, la cooperativa Valle Unite, che ormai esiste da 30-40 anni, ma attorno a noi e altri ci sono tante altre piccole realtà che stanno crescendo e negli ultimi tempi ancora di più vengono dalla, diciamo, dalla città alla campagna per trovare, diciamo, una forma di vita migliore. Io rimedia, mi fa anche pensare che alcuni comunque di questi ragazzi sovente rimediano anche la vita, cioè si tratta anche di salvare, a volte della vita, perché sono ragazzi che spesso in città non trovano una loro collocazione, non trovano un posto dove stare, in qualche modo sono emarginati. E l'idea di trovare un futuro in un posto molto più bello, legato comunque a un ambiente molto più naturale, nonostante tutte le devastazioni che ci sono state fatte, questo lì ho in cuore e gli dà forza nell'andare avanti. Per cui io credo che i media, piuttosto che scrivere dieci volte su un giornale nell'arco di un mese che quel contadino è tornato nel tal paese, finalmente è tornato lui, vuol dire che l'agricoltura ritorna. Non è assolutamente vero, perché se vai in quel paese erano 40 le aziende agricole, oggi è una e se ne salva una, e farlo appunto diventare una forma di idolo quasi, sarebbe molto meglio parlare di tutti i benefici che questo tipo di agricoltura dà, anche ad esempio, aggiungo un altro punto, a livello di biodiversità, tutte queste aziende, anche noi che abbiamo intervistato, tante comunque si affidano, scelgono di avere delle razze autoctone, scelgono di avere degli antichi semi, anziché semi selezionati, insomma c'è tutta una forma di salvaguardia della biodiversità a 360 gradi, che accomuna tutti, non c'è un pensiero politico unico, per fortuna, ma su questo accomuna quasi tutti. La salvaguardia sia dell'ambiente, una scelta forte di vita, e dell'ambiente legato diciamo appunto a tutto il suo ciclo. In più, a livello di economia, io credo che in un momento di crisi, così che non si sa da dove sbattere la testa, certe scelte industriali sono state fatte in altri tempi, quando forse si pensava che l'Italia, poi basta guardarla geograficamente, che non è che possa essere questa gran potenza, per cui più che alzare il pile e pensare all'industria, bisognerebbe davvero pensare come far rinascere un territorio devastato. E secondo me qua c'è anche una risposta a livello economico, perché poi qua si tratta di trovare dei posti di lavoro, di far rinascere delle zone che sono più o meno devastate o abbandonate, in una forma semplicemente anche di economia locale, di economia dal basso, che non è quanto guadagni ma è come vivi. Per cui bisogna ribaltare un po' le leggi attuali dell'economia. Solo un certo modo di produrre, che richiama molto di più attenzione di lavoro, ma non lavoro quello dei nostri nonni che si rovinavano la schiena a zappare, magari per un padrone che si portava via il prodotto, ma di un impegno, un lavoro che implica tutta la conoscenza antica, in parte distrutta dalla trasformazione, ma è in parte quindi da riconquistare, e in parte viene anche dalle nuove conoscenze in campo ecologico, quindi tutto il lavoro sulla biodiversità si avvale di questo. Certamente di nuovo l'agricoltura contadina diventa fra virgolette di moda, o si parla di agricoltura contadina, perché nel mondo sono i contadini, cioè le piccole aziende familiari, quelle che provvedono quasi, le cifre poi si possono inventare e dire varie, ma è attorno al 60-70% di tutto quello che serve per dar da mangiare ai 7 quasi miliardi di popolazione, bene o male, viene fuori dall'agricoltura, dalla piccola agricoltura. C'è anche il fatto che proprio per l'interesse buono per certi aspetti e negativo per altri aspetti, che suscita l'immigrazione da questi paesi dove le popolazioni rurali, da dove le popolazioni devono scappare, anche questo ci riporta a queste immagini dell'agricoltura contadina. Allora c'è ovviamente un revival, c'è un interesse, le realtà vere sono quelle che sono state già descritte, non entro. Un ritorno alla terra lo fanno anche i vecchi, io ne sono un titolare di questo, una particolarità, dopo aver fatto un mestiere che mi ha portato in giro per il mondo, occupando i contadini poveri, per vicende familiari, e per mantenere la memoria dei miei vecchi, sono tornato a fare l'agricoltore, in una formula certamente molto adattata alla mia esistenza, quindi ai legami e alle radici urbane che inevitabilmente avevo messo dopo aver abbandonato le mie zone di origine. Allora, qui i media, e certamente devono essere molto attenti nel descrivere queste realtà, è molto importante, in particolare su un aspetto. L'agricoltura che pratica Valle Unite, così come anche altre realtà nel Piemonte, è un'agricoltura di resistenza, è un'agricoltura di lotta per imporsi, per imporsi non solo nell'immagine, ma per imporsi concretamente nel mercato, trovare lo sbocco di mercato. E allora, qui abbiamo bisogno di alleati, questo ce lo diciamo fra noi che produciamo, ma ce lo diciamo anche nelle altre sedi a cui abbiamo accesso, a volte perché vendiamo i prodotti. Io parlo dei cittadini che si aggregano nei cosiddetti gruppi di acquisto solidale. Bene, questo è un modo per poter parlare. Non molto se ne parla, è anche delle difficoltà di arrivare a questo tipo di riavvicinamento fra città e campagna, che arricchisce soprattutto gli urbani, ma anche ovviamente da forza, da vitalità, da sostegno a chi decide di fare una scelta molto radicale di vita, che è quello di non andare a respirare l'aria buona, o migliore comunque, dell'aria di città, ma il lavoro in campagna è duro, la terra è bassa, come dicevano tanti, e anche se si applica molta intelligenza, anzi, se il futuro dell'agricoltura, che noi chiamiamo agroecologia, cioè un'applicazione di conoscenze ecologiche nel produrre il cibo, che peraltro è il futuro del mondo, perché l'agricoltura industriale, quella che dà il cibo fra virgolette avvelenato, non voglio essere frainteso, ma certamente mangiare hamburgers nel tempo ci sia velena, così come mangiare le farine doppio zero, sembrano cose quasi banali a dirle, perché sono state reclamizzate molto nelle, ma voglio dire, il futuro non può essere l'agricoltura industriale, costa troppo, costa troppo all'ambiente, costa troppo agli uomini, costa troppo alla salute delle persone, e soprattutto è escludente, e qui viene fuori tutto il discorso che insomma l'investimento di capitali che l'agricoltura industriale impone è altissimo, ce ne vuole anche per fare l'agroecologia, per fare l'alternativa, ma l'alternativa siccome si basa molto sul lavoro e sull'intelligenza dei uomini, può risparmiare in capitali finanziari in parte, in parte, certamente c'è tutto un discorso poi delle politiche collettive e nazionali e internazionali su cui il discorso è molto più lungo. Una domanda che magari può risultare banale, che relazione c'è tra l'agricoltura non quella di resistenza tradizionale e le grandi opere? Perché a me viene in mente la posizione della Coldiretti che è una posizione come dire molto debole. Un momento e qui entriamo in un terreno un po' minato. Allora la Coldiretti attualmente non rappresenta i contadini, è capitale finanziario, la FederConsorzi è stata un soggetto per molti forse ignoto ma è stato un organismo finanziario che ha sperperato molti soldi degli italiani e che è servita per lo più a fare certamente organizzazioni di massa. Negli anni 50 gli iscritti alla Coldiretti erano tantissimi anche perché attraverso il collegamento con la politica con la democrazia cristiana e con la loro impostazione ideologica di combattere il comunismo nelle campagne intendendo come comunismo anche le cose buonissime che si facevano in campagna ma intendendolo come spauracchio politico dell'invasione ideologica che è stato trascinato poi nell'immaginario politico da Berlusconi e non solo da lui continua ancora questa vicenda che ci siano dei comunisti in giro per le campagne quindi dicevo non confondiamo sono cose ben diverse che cosa accomuna un ragionamento sull'agroecologia o l'agricoltura diciamo alternativa quella all'agricoltura industriale il fatto che è un movimento di resistenza cioè di proposta alternativa che viene combattuta continuamente in due forme uno della cooptazione e questo è il rischio più grosso che abbiamo adesso il mangiare biologico è in parte di moda e in parte una necessità mi permetto di citare una roba autobiografica io lunedì vado in una sede dove un'associazione di appoggio a donne operate al seno cioè quindi un'associazione di sostegno di chi subisce il cancro questa associazione organizza dei corsi di educazione alimentare perché finalmente i medici hanno detto quello che era la verità cioè che ci sia mala anche al cancro seno per colpa di una cattiva alimentazione io vado in quella sede lì a parlare esattamente e quindi è una continua diciamo lotta di resistenza proprio perché è fondamentale certamente abbiamo bisogno di superare nei media e i media alternativi hanno un compito fondamentale questi distingui quando la col diretti si presenta con tutte le bandiere a difendere le buone cause a volte sono anche buone cause per carità insomma si associa però va a ridosso qui abbiamo testimoni di gente che ha dovuto fare le battaglie per affermare certi principi dell'agricoltura che stanno praticando adesso la cooperazione per esempio la piccola azienda non può sopravvivere da sola questo per definizione è stato sempre vero per le piccole aziende questo vale anche per gli artigiani vale per tanti anche per i produttori di media indipendenti certamente occorre mutualità fra soggetti attivi ma negli anni 60 si era comunisti se si parlava di cooperazione è vero c'era una forza sociale e un partito che nelle campagne prevedeva un'associazione che non era fare i colcos o i sofcos di Stalin era un'altra cosa quella formula che veniva proposta e praticata perché i braccianti nel sud hanno praticato anche queste cose o in Emilia Romagna hanno formato cooperative a medicina la famosa c'è una cooperativa storica di braccianti che alla fine hanno avuto anche le terre prima le affittavano prima facciano i braccianti poi poco alla volta hanno costruito attraverso una mutualità quindi il discorso diciamo che ci per questo ho accettato anche di parlare qui c'è una qualche affinità noi che cerchiamo con i nostri limiti anche qui non c'è trionfalismo di nessun tipo io perlomeno cerco di farne il meno possibile c'è una lotta in atto per contrastare l'agricoltura industriale questo vale nei nostro paese e qui stiamo parlando del nostro paese ma vale in tutto il mondo perché fra l'altro il capitale finanziario trova modo di investire i propri soldi in terre tirandole via i contadini africani oppure con capitalismo con una forma di colonialismo interno in India in India il capitale finanziario industriale finanziario sta invadendo le terre dei contadini prendendosele magari per produrre cibo industriale che ha molti limiti come abbiamo detto volevo aggiungere quello che diceva Giorgio poi interviene penso anch'io alla domanda da Coldiretti e delle altre associazioni cosiddette sindacali che dovrebbero difendere i contadini innanzitutto sono stati credo che siano stati presi un po' di contropiede da questa nascita della cosiddetta l'agricoltura contadina se voi andate a vedere quello che si diceva 30 anni fa le aziende piccole contadine dovevano sparire dovevano essere eliminate tutte cioè si poteva salvare solo l'azienda media che andava dai 30-40 eteri in su avendo come si guardava la Francia si guardava l'America si guardava quell'agricoltura cosiddetta industriale che invece è quella che per fortuna ha dimostrato anche tanti limiti anzi oggi è in crisi più che mori che mai al punto che c'è anche tanto per dire chi ha una cascina agricola è in pieno anche di vasta densità che poi si salva facendo il mercato contadino anche lui perché non so più dove sbattere la testa a vendere il suo prodotto e questo ha fatto cambiare un po' diciamo direzione e qua c'è l'agricoltura a chilometro zero ma questo è stato sempre in ogni caso mal visto da qualsiasi noi in questo abbiamo fatto davvero anni e anni fa una forte resistenza perché il nostro tipo di agricoltura ci dicevano tutti che poteva essere solo fallimentare noi dovremmo produrre per la grande distribuzione al limite facci cooperativa per essere più forti per poi andare a produrre per un qualcuno che è molto più forte di te cioè la grande distribuzione insomma al massimo si arrivava a quello e saremmo stati tra l'altro avremmo già chiuso da parecchi anni perché poi quel nostro tipo di agricoltura non è competitivo in più ad esempio gli aiuti che spesso si pensa si dice l'agricoltura è aiutata è vero è aiutata in base agli ettari tanto faccio un esempio noi abbiamo nella nostra cooperativa viviamo in 30 e su 100 ettari di terra ovviamente trasformando tutto sull'autocostruzione sulla vendita diretta abbiamo un agriturismo abbiamo tante cose ma comunque ci vivono più di 30 persone gli aiuti comunitari che noi percepiamo li prendiamo in base agli ettari che vale a dire che il nostro vicino di casa da solo lavora molto più ettari di quanto non lavoriamo noi facendo un'agricoltura estensiva 100 ettari di terra a campi non sono neanche tanti però per uno uno supermeccanizzato e lui riceve riceve dalla comunità europea più di quanto non percepisce valle unite in terra salvaguardando creando 30 posti di lavoro più tutto quel discorso sulla biodiversità sulla salute su tante altre cose che abbiamo detto però qui è completamente sballato questo sistema questo sistema in cui si guarda l'agricoltura questo è solo uno dei dati in questo caso la narrazione sposta soldi da una parte all'altra sposta soldi toglie soldi una narrazione ben fatta toglie soldi il sistema agroindustriale e li porta invece su una struttura sociale diversa mi ha un po' colpito però il primo intervento in cui non è parcia chiara come è parcia alzare subito bandiera bianca sul problema della narrazione in questo caso io credo che occorra spingere di più voi dovreste spingere secondo noi molto di più per gli altri argomenti noi siamo tutti vittime per noi la narrazione è un qualcosa per difendere l'ambiente la nostra stessa vita la sanità in questo caso invece c'è qualcosa in più si può cominciare a fare economia con una narrazione diversa vorrei che però questa cosa qui ci fosse maggiore consapevolezza questa cosa che non mi è parsa chiara nel primo intervento io non dico che la partita è persa non credo che come dire in generale per l'agricoltura contadina ma lo vedo anche in relazione agli altri settori che non credo che la nostra battaglia possa essere come dire contrapporre una nostra verità a un'altra verità già data e giocare sempre di sponda come dire smentire dei discorsi o delle verità come dire inutili false credo che sarebbe molto importante veramente in un contesto dove si parla di informazione indipendente e di informazione autonoma sviluppare portare avanti un discorso autonomo un'altra rappresentazione dei contenuti e della forma della campagna non credo che si possa andare avanti semplicemente come dire a fare questo piagnisteo per cui rispetto a quel decreto quella legge non sono stati come dire adeguatamente rispettati in tema ambientale questo e quello credo che la cosa che hanno in comune credo l'agricoltura contadina rispetto al discorso delle grandi opere è che comunque la TAV ha dimostrato come dire che dal piccolo no in un contesto di territorio perché nella resistenza che nasce su un territorio si può contrastare una grande opera che invece strategicamente e geostrategicamente non ha una portata globale credo che il contadino il piccolo a partire dai piccoli territori senza aver paura appunto di essere già perso o di perdere in futuro la sua missione sia quella comunque di coltivare e di portare avanti il suo lavoro siamo troppo piccoli come dire per porci frontalmente in termini bellicosi al nemico credo che noi dobbiamo spostare lo scontro su un altro terreno io credo che più che una questione di comunicazione sia una questione forse di battaglia culturale nel senso che ad oggi e voi lo dimostrate e abbiamo parlato prima per la questione dell'energia come anche per i media indipendenti bisogna incominciare a cercare di cambiare proprio la mentalità nel senso che bisogna ripartire proprio da costruire la società sulle comunità sulle cooperative ed è voi state praticamente dimostrando che questo è possibile così come si riesce a fare i gruppi d'acquisto anche in campo energetico io mi occupo di campo energetico però il concetto è lo stesso quindi direi che è vero c'è una difficoltà di comunicazione ma secondo me il messaggio che le comunità sono il nuovo modello di società del futuro sta iniziando a farsi strada forse è solo un piccolo germoglio che sta crescendo spero che qualche gelata non lo distrugga prima che dia frutti questa è una cosa l'altra cosa invece che volevo chiedere è come riuscite a salvaguardare la raccolta dei semi tradizionali che non sono catalogati dalle varie industrie che producono semi transgenici che quindi sono negli elenchi del ministero dell'agricoltura anche per avere le certificazioni bio con la certificazione bio ad esempio perché io so che in Puglia abbiamo il grosso problema che se tu hai i sementi dei vecchi quelli non sono riconosciuti perché dovresti per avere la certificazione bio dimostrare di averli comprati dalla Monsanto piuttosto che dall'altra ditta c'è una qualche imprecisazione dunque in Italia i semi OGM ottenuti non sono stati in Italia esiste un controllo statale sulle sementi come in tutta Europa e fra l'altro con un'agenzia che è stata più volte rimaneggiata in teoria per migliorare e abbattere i costi quindi l'ente nazionale sementi elette che è un'istituzione che abbiamo ereditato dal fascismo dalla battaglia del grano adesso sta cambiando natura non si capisce bene quindi anche per le sementi diciamo che usiamo in agricoltura biologica abbiamo problemi problemi di moltiplicazione di sementi con procedure biologiche per cui al solito un po' all'italiana si è trovato il modo con cui delle sementi non biologiche si ottengono deroghe se non si trova sul mercato quindi il problema è un problema grossissimo bisogna anche dire che piccole istituzioni di ricerca locale io cito quella delle marche dove presso cui ho la mia azienda nella zona dove ho la mia azienda una piccola iniziativa che si chiama Cermis ha favorito il ritorno del farro per esempio del tritigum di coccum lavorando con la selezione massale senza fare incroci e quindi abbiamo delle sementi migliorate che adesso l'ense ci riconosce come tali e lo stesso vale per un prodotto che sempre la mia specialità che sono i ceci ci sono varietà che sono state migliorate e non sono ancora totalmente rientrate nella regolamentazione ufficiale certamente la regolamentazione sia nazionale prima e adesso è tutta unificata a livello di Unione Europea sempre che esista che 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 continui è una legislazione a favore delle multinazionali in questo l'ultima vicenda terribile questo riguarda anche per esempio le agenzie per la sicurezza alimentare noi a Parma abbiamo la sede di un'agenzia europea che dovrebbe salvaguardare diciamo la salute dei consumatori controllando la salubrità dei prodotti che vengono messi in giro si è pronunciata recentemente addirittura contro lo IARC un'istituzione di ricerca sul cancro delle Nazioni Unite sulla probabile cancerosità del diserbante più diffuso il glifosato esattamente perché perché a presiedere questa istituzione europea guarda caso c'è un ex dirigente di una compagnia la Bayer non so di quale agenzia ecco questo tanto per tentare di capire certamente l'esercizio di una di un'agricoltura agroecologica presuppone istituzioni che la favoriscano che tuttora non esistono o esistono in parte o sono autoconfigurate cioè ce le siamo fatte da soli se le sono fatte quelli che sono venuti prima di me io sono venuto più tardi e mi sono appoggiato su cose che già in parte erano state conquistate questo è quello c'è anche l'associazione genuino clandestino mi faceva venire in mente e siamo anche un po' tutti i clandestini senza per fortuna rischiare quello che rischia invece quello ragazzo di Gela che ho parlato prima in questo senso rischiamo forse che se tutti tutte le guardie tutti i corpi che dovrebbero controllarci arrivano come dico io nella stessa mattina tutti insieme nella nostra azienda siamo costretti a dargli le chiavi in mano ed andarcene probabilmente perché le multe che sono in grado di farti non sono sufficienti cioè noi non siamo in grado assolutamente di pagarle perché dico genuini clandestini perché paradossalmente un certo tipo di agricoltura bisogna ammetterlo si salva grazie a delle opere che sono decisamente fuori legge ma questo non per vantaggio perché è il clandestino più bello anzi al contrario semmai stiamo portando avanti con tante associazioni italiane la legge cosiddetta sull'agricoltura contadina che è Roma che dovrebbe proprio salvaguardare l'agricoltura contadina cioè fare in modo innanzitutto abbiamo già dimostrato da tempo che i nostri prodotti sono più salutari e su questo non ci sono dubbi anche perché se no ci sono dei dati alla mano e l'altra invece è quello di mettersi dalla parte della legge e di dire vabbè visto che siamo in grado di dare una risposta anche tra l'altro a livello mondiale con via campesina l'agricoltura contadina da una risposta davvero a livello mondiale sotto questo aspetto fateci in modo che noi possiamo lavorare queste sono parole di un assessore tra l'altro di Torino che ha detto che a noi sono piaciute tanto la cosa era che la battuta era che ci si sta occupando di più dei mal di pancia che dei cancro praticamente per salvarci da qualche mal di pancia in meno che potevamo avere anni fa si rischia di morire tutto di cancro questa è la risposta dell'agricoltura che dà l'agricoltura secondo me secondo tanti cosiddetta industriale e l'agricoltura da contadina ecco che può anche forse c'è ancora qualche caso di mal di pancia io dei dubbi non ne vengono ma comunque tanti prodotti è chiaro che faccio un esempio se una piccola realtà contadina per costruire per vendere pochi chili di formaggi si fa investire qualcosa come 70-80-100 mila euro per un caseificio è chiaro che non ha senso resistere oltretutto controproducente io poi invece sulla parola media mi viene da dire non voglio aprire un capitolo ma tutto quanto che è stato detto ad esempio sulla carne carne bistecca in primo pagina carne calcerogena è uguale a mettere tutto nello stesso piatto secondo me abbiamo è giusto che si faccia informazione e in quel caso mi sarei aspettato da un'informazione un po' diciamo non di massa anche una risposta decisa andare a vedere se effettivamente la carne può essere tutta calcerogena non bisogna mangiare più carne basta vuol dire che tutta la biodiversità legata agli allevamenti di montagna la carne all'erba che tra l'altro dimostrato che contiene l'omega 3 come poche altre cose e quel tipo di carne bisogna far passare anche questo ma il messaggio che ha passato è che la carne è calcerogena e questo mi sembra una cosa non essere capaci di ribattere questa cosa sui giornali mi sembra davvero grave se non su dei piccoli trafiletti il mio punto è ancora quello di quando siamo venuti a Valle Unite il piccolo mondo della produzione indipendente e il mondo assai più grande ma altrettanto sparpagliato e indifeso dell'agricoltura contadina una cosa hanno in comune che la loro dignità si afferma nel momento in cui da una parte si producono dei cibi buoni e voi lo state facendo dall'altra si producono dei contenuti buoni e si riescono a distribuire e noi non riusciamo a farlo allora la chiamata qui di cui vi ringrazio tantissimo vi siete scocciati dopo una giornata di lavoro a venirvi a fare il viaggio a Torino era per come dire ascoltare da quello che ha detto Jeff prima nel suo primo intervento ha detto una cosa ha detto non dobbiamo stare dentro agli schemi valoriali comunicativi che ci sono già imposti e io sono assolutamente d'accordo sono per correre il rischio di fare la cosa opposta cioè ogni volta che un ragazzo qualcuno di giovane lavora con me mi dà dei suggerimenti perché le cose che facciamo siano più televisive più facili da portare al pubblico più immediate insomma che abbiano quel gusto McDonald's che il pubblico è stato diseducato ad apprezzare o a riconoscere come un unico gusto legittimo allora dico beh piuttosto di fare quell'errore lì faccio l'errore opposto faccio l'errore di strobe la ragione per cui io sono fremente è che tra 20 minuti c'è una proiezione di strobe e qui ci sono ancora 4 persone che abbiamo invitato nella giornata di oggi a cui devo chiedere di essere telegrafici in buona sostanza siamo ancora in questa in questa aporia e non e non sappiamo come uscirne io dico poi tranquillamente ci si dalle aporie si esce con la sperimentazione ti rompi la testa una volta due tre e poi alla fine o ti rassegni e cambi mestiere oppure hai trovato una strada sulla quale vale la pena di muoversi quello che credo sino in fondo è che sul piano culturale culturale non fraintendetemi non mi fraintenda Sereno Regis che è pacifista ma sul piano culturale l'agricoltura contadina deve saper dichiarare e praticare la guerra ai Carrefour e la produzione indipendente deve saper dichiarare e praticare la guerra alle televisioni questa è la mia convinzione profonda poi ci sarà un momento in cui finalmente grazie al cambiamento culturale cambierà la politica il Carrefour e gli attuali televisivi prenderanno calci in culo e magari da quel momento in poi si lavorerà con dignità come è giusto che tutti lavorino comunque vi ringrazio di questo e vi ringrazio di tutti i suggerimenti che vorrete in un modo o in un altro mandarci nei dialoghi che sicuramente avremo anche in futuro grazie a tutti